Ciao, sono Jessica Niven-Ghori, ricercatrice tecnologa di Indire e vi saluto qui da didacta e vi vorrei parlare come mai le STEM integrate sono più attuali che mai, soprattutto anche in combinazione con l'intelligenza artificiale. Quest'inverno, vi siete resi conto, sono uscite le linee guida del ministero su proprio le STEM, come insegnare le STEM e le tecnologie, anche lì insieme alle competenze trasversali, le approcci e le metodologie didattiche hanno un ruolo fondamentale. Devo dire nella mia esperienza come responsabile del punto di contatto nazionale della rete Scientix, una rete europea di insegnanti scientifici, devo dire che l'insegnante di questa rete già da più di un anno o da più tempo stanno lavorando proprio con l'intelligenza artificiale nei loro percorsi e le loro attività didattiche con le STEM e questo non, vi devo correggere mi stessa, non va solo sulle scienze o sulla matematica, questo comprende anche lingue inglese, francese, l'arte fanno percorsi, esposizioni di arte, riflessioni sull'etica o anche su codice stradale.